Seguendo Leo Sutera di Sampuca di Sicilia per tutto il professore, i carabinieri del raccruppamento operativo speciale erano confinti di arrivare alla cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro. Qualche mese fa i servizi segreti avevano addirittura trovato le tracce di un pizzino scritto dal boss trapanese proprio a Sutera, ritenuto uno dei suoi pochissimi uomini di fiducia. Più di recente, sempre Rossi, era riuscito ad intercettare il Sampucesa colloco con un affiliato che raccontava di un incontro col superlatitante. Sono continuati lunghi pedinamenti nelle campagne della Valle del Belice per sviare gli incontri e le riunioni di mafia fra Leo Sutera e alcuni posti trapanese e palermitani. Per seguillo nei suoi spostamenti è stato utilizzato persino un aerospiglia, il Predator, fiore all'occhiello dell'auronatica militare italiana. Poco dopo la cattura di Cernantino Messina avvenuta a Favara, Cosa Nostra, ripartendo da zero per la provincia di Agrigento, ha puntato su facce nuove e magari pulite. Con il benestare di Matteo Messina Denaro, la scelta per il nuovo capo provincia dell'Agrigentino sarebbe caduta proprio su Leo Sutera. Sulla vicinanza tra il Sampucese e Matteo Messina Denaro pesano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Calogero Rizzuto che ha raccontato ai pubblici ministeri della DDA del rapporto personale privilegiato tra il capo di Cosa Nostra e Leo Sutera. Sul ruolo del primo piano del professore all'interno di Cosa Nostra ha fatto luce l'indagine nuova cupola condotta dai poliziotti del commissariato di Porto Empedore e dagli agenti della squadra mobile di Agrigento. Gli investigatori hanno accertato che una o due volte al mese Francesco Ribisi, Giovanni Tarallo e Gerlando Fragapane si recavano a Sambuca di Sicilia per incontrare proprio il presunto capo provincia. Grazie.